Il processo Una grande borgata di periferia. L'isba dell'infermiere Kuzma Yegorov. Si soffoca, fa caldo. Zanzare e mosche maledette fanno ressa intorno agli occhi e alle orecchie. Non se ne può più. Nell'aria roventata e impregnata di ogni possibile odore sono sospese nuvole di fumo di tabacco. Nell'aria, nei volchi, nel ronzio delle zanzare c'è una tale tristezza che viene voglia di impiccarsi. E in più c'è un forte odore di fenolo. Un gran tavolo. Sul tavolo un piattino con gusci di noci, un paio di forbici, un barattolo con un unguento verde, quattordici cartocci e cinque bottiglie. Vuote. Attorno al tavolo, rispettando per quanto è possibile l'anzianità, sono seduti Kuzma Yegorov, il padre Diacono, l'ostarosta, l'assistente infermiere Ivanov, il sagrestano Feofan Manafujlov, il bottegaio Minas Razbabai, Luca Luchkov, il commesso del mercante Yavedov, il sottufficiale Ferapontov, il direttore del coro Terpigoliev, il basso Mikailo, il compare di tutti i perfenti Ivanich, nonché il gendarme Fortunatov, giunto dalla città per visitare la zia Anisha. A rispettosa distanza dal tavolo, ritto in piedi, c'è il figlio di Kuzma Yegorov, Mitrofan, che consiste in una schiena lunga lunga, un piccolo naso azzurro, un cravattino rosa, un colletto a punta e gli stivali lucidi. Si sente molto a disagio e con mano tremante si tira ai baffetti. Vicino alla porta, il sottufficiale di polizia Grandiozov è sdraiato su un comodo baule e legge il bollettino del governatorato. Nell'anticamera i malati attendono. Proprio ora hanno portato da chissà dove una contadina con una costola rotta. Sta sdraiata e geme. Sotto le finestre si accalca la gente, venuta a vedere come Kuzma Yegorov fustigherà suo figlio, il colto scrivano. «Voi dite sempre che io mento», dice lo scrivano, «e quindi non ho intenzione di parlare a lungo con voi». Con le parole, papà, nel XIX secolo non arriverai da nessuna parte e non farai meravigliare nessuno perché la teoria, come vi è ben noto, non può esistere senza la pratica. Io non apprezzo i lunghi ragionamenti. «Taci», dice Severo Kuzma Yegorov, «smetti di fare dei grandi scorsi e parla come si deve. Dove hai messo i miei soldi?» «I soldi?» «Voi siete una persona abbastanza intelligente da capire che io i vostri soldi non li ho toccati. Di vostro io non ho visto che monetine d'argento e di rame. I vostri biglietti di banca voi non li accumulate certo per me. Non vale la pena di commettere peccato. Voi, Mitrafani e Cosmitz, siate sincero», dice il padre diacono. «E per quale motivo noi vi domandiamo questo? Noi confidiamo che vi decidiate a imboccare la retta via. Vostro papà non vuole altro se non il vostro avvantaggio. e allora ci ha chiesto. Voi, in tutta sincerità, chi è, senza peccato? Siete stato voi a prendere a vostro papà i venticinque rubli che erano là ieri l'altro? Oppure no?» Lo scrivano sputa di lato e tace. «Parla dunque che il diavolo ti pigli!» urla Kuzma Yegorov e picchia col pugno sul tavolo. «Dì se sei stato tu oppure no!» «Come volete voi, signore!» «Ammettiamo pure che...» «Mettiamo pure che...» correzza il direttore del coro. «Mettiamo pure che io li abbia presi!» «Mettiamo pure!» «Però è inutile che voi, papà, mi mandiate al diavolo e non c'è neppur bisogno di picchiare sul tavolo. Per quanto picchiate, il tavolo non lo farete sprofondare sotto terra. Io i vostri soldi non li ho mai presi, ma se un bel giorno li prenderò, allora sarà per necessità. Sono un uomo, un essere vivente, participio presente del verbo «vivere» e per vivere i soldi sono necessari. Non sono una pietra, io. Ma se ti servono i soldi, va a lavorare invece di fregarmeli. Tu non sei figlio unico. Siete in sette!» «Questo lo capisco, anche senza la vostra predica. E solo per la mia salute cagionevole, come peraltro vi è noto, guadagnare mi è di conseguenza impossibile. E il fatto che ora voi mi siete venuto a rinfacciare un boccone di pane, di questo stesso voi dovrete rendere conto al Signore Dio. Cagionevole di salute! Non è che tu abbia un lavoro così complicato. Devi solo continuare a scrivere e scrivere, ma tu scappi anche da questa occupazione, imbecille! ma quale occupazione? Voi questa la chiamate occupazione? Questa non è un'occupazione, ma solo una fantasia da contadini. E la mia istruzione è tale che con una simile occupazione voi non giudicate rettamente, Mitrofani Kozmich, dice il padre diacono. La vostra è un'occupazione degna, intellettuale, non fisica. Non fisica. Voi scrivete e anche Lomonosofov scriveva. Quanto a Lomonosofov, se volete, posso io stesso spiegarvelo. L'assistente infermiere Ivanov aveva bevuto un po' troppo. Secondo il nostro giudizio medico, dice, tu sei assafetida e niente più, ma il vostro compito, Leblebitz, è stare zitto. Noi conosciamo bene la vostra medicina. Permettetemi di domandare, chi è che l'anno scorso insieme a mio papà per poco non ha sezionato un falegname ubriaco invece di un cadavere? E se non si fosse svegliato, gli avreste aperto la pancia. E chi mescola l'olio di ricino con quello di canapa? In medicina non se ne può fare a meno. E chi ha spedito Malania all'altro mondo? Papà gli ha dato un lassativo e voi una stringente. Chi è che invece della chinina dà ai contadini della soda? Sia pace all'anima di Malania, dice Kuzma Yegorov. Pace all'anima sua, ma non è stata lei a prendere i soldi. Non è di lei che dobbiamo parlare. Ma dimmi, furfante, li hai dati ad aliena? Ad aliena? Vecchio, certo che in testa avete delle idee lascive. vi dovreste vergognare, almeno in presenza del clero. Io aliena l'ho lasciata da tempo. Anzi, aliena l'ho messa a disposizione di Feofana Vacumich. Manafui lo fa si confonde. Turpiloquio, sì signore, sì signore. Voi pronunciate in vano queste parole. Sono solo una tentazione. Io non pensavo a peccare, ma adesso grazie alle vostre parole ho cominciato a pensarci. Se corteggio il personale femminile è perché non se ne può fare a meno. È impossibile. È la natura. Proprio come il pane. Si può fare a meno del pane. E parla dunque. Le hai presi tu i soldi oppure no? Iona, un fiammifero, urla Grandiosov. Lo starosta si alza da tavola. Si accende un fiammifero sul ginocchio e rispettosamente lo avvicina alla pipa del sottofficiale di polizia. Uff, si arrabbia il sottofficiale. Mi hai riempito il naso di zolfo. Vattene. Che soggetto. Ma quale popolo è popolo. Questo non è il popolo. Che soggetto. Ferabontov si alza ed esce rumorosamente da dietro la tavola. Ma tu, che razza di tipo sei, grida squadrando Mitrofan e mandando lampi con le pupille. Ma che fai? Perché fai così? Eh? Che vuol dire? Perché non rispondi? È disubbidienza? Si prendono i soldi altrui? Erano stati messi la per te? Sta zitto. Rispondi alla comunanza. Se solo... Zitto! Se solo... Parlate più piano, signore. Non ho paura. Voi vi considerate chissà che. Ma voi siete un cretino e niente di più. Se mio padre mi vuole consegnare la punizione, io sono pronto. Avanti con la frusta. eccovi il mio petto. Colpite pure. Avanti coi vostri tormenti. Mordete! Ma io so cosa fare, lo so. Io conosco la rivoltella a sei colpi. Il peccato non peserà sulla mia coscienza. frustare, sospira il basso Micailo. È un ragazzo cattivo, davvero cattivo. Bisogna picchiarlo sul muso. Il mio nasarlo picchio sempre su per il muso. Zitto. Non dire neanche una parola. So cosa pensi. Sei tu il ladro. Chi è cosa? Ah, zitto! Da su. Davanti a chi ozi star su? Mettiti in ginocchio se mi vuoi guardare. Guarda con rispetto. Punirlo, eh? Punirlo, sospira il padre diacono. Se non vogliono alleviare la loro colpa con la confessione, allora Mitrofan Kosmicz Dio tanto sa tutto. A Dio non si nasconde nulla. La confessione allevia la colpa. La testardazzine la pesantisce. Dategliela dunque, dice il direttore del coro, sollevando un sigalo dozzinale e cominciando a fumarlo. Bisogna insegnarli. Il potere non ama il terrore, ma se uno ruba o il modo di pensare non impedisce di fustigare. Per l'ultima volta, sei stato tu o no? Come vi fa piacere. Fate pure, frustate. Sono pronto. Frustare, decide Kuzma Yegorov. E diventato paonazzo, si alza da tavola. Il pubblico incombe alle finestre. I malati si affollano alla porta e allungano il collo. Anche la contadina con la costola rotta. Anche lei allunga il collo. Si alza il rumore. Sdraiati, dice Kuzma Yegorov. Lo scrivano getta via la giacca. Si fa il segno della croce e si sdraia ubbidente sulla panca. Frustate, dice. Kuzma Yegorov, Ferapontov, Ivanov e il gendarme Fortunatov si tolgono la cinghia. Si guardano l'un l'altro per un po' di tempo. Si fanno il segno della croce e cominciano. Uno, due, tre, nove, dieci. Il chiarico sta in piedi in un angolo con gli occhietti abbassati e sfoglia un libretto. Venti, trenta. Basta, dice Kuzma Yegorov. Ancora, mormora Ferapontov. Ciò ha preso gusto. Quaranta, cinquanta. Pigolasse almeno un po', si meraviglia il pubblico. I malati fanno largo e con fruscio di gonne inamitate entra la moglie di Kuzma Yegorov. Kuzma, si rivolge al marito, cosa sono questi soldi che ho trovato nella tua tasca? Non sono quelli che cercavi poco fa. Sono proprio quelli. Alzati, Mitrofan. Abbiamo trovato i soldi. Me li ero messi in un cartone ieri e poi me ne sono scordato. Ancora, dai, lasciatemi fare, borbotta Fortunatov. Abbiamo trovato i soldi. Alzati. Lo scrivano si alza, indossa la giacca e si siede al tavolo. Segue un prolungato silenzio. Il chierico, confuso, si soffia il naso in un fazzoletto. Scusa, mormora Kuzma Yegorov rivolgendosi allo scrivano. Tu non sei, lo sa il diavolo, che li avrebbero ritrovati. Scusa. Non importa, signore. Non è la prima volta. Non vi preoccupate. Io sono pronto ad ogni tormento. Bevi, ti passerà. Lo scrivano beve, solleva verso l'alto il piccolo naso azzurro ed esce dall'isba come un eroe epico.